I problemi sono molteplici, rincaro carburanti, elevata burocrazia, regole europee stringenti, regole assurde sul benessere animale, regole assurde sull'inquinamento, i contributi europei che arrivano in ritardo, i bandi che ancora sono aperti dal 2014 e ancora non sono stati chiusi, quando dovrebbero durare tre anni, la burocrazia che fa perdere tanto tempo e le aziende non hanno neanche il tempo di costruire, che possibilmente non ce la fanno in tempo ad avere quei guadagni e poi chiudono, ho un allevamento di bovini, produco latte e carne. La grande distribuzione ci sta soffocando, prediligono l'importazione di grani esteri, l'importazione di latte dall'estero, casificare latte che non è italiano per ovvi risparmi, ma quando noi abbiamo qui la qualità, elevatissima qualità, perché il nostro latte viene venduto per alta qualità, perché lo è, perché lo è. E io a 20 anni mi impegno per la mia azienda, mi impegno per il mio territorio e tutti i giorni mi impegno, alzandomi presto la mattina e questo fa male, fa male a me come tanti giovani, come tanti 30, 40 anni che si avviano per una famiglia quando non abbiamo, abbiamo paura, abbiamo tanta paura. Bisogna appellarci intanto a tutti i colleghi per partecipare al presidio, per cercare di rivendicare, chiamiamolo i nostri diritti, ma ci sono delle cose sia a livello europeo che vanno sistemate perché così facendo siamo destinati alla chiusura e quindi ci appelliamo diciamo a tutti i social, a tutte le televisioni per invitare le persone a partecipare. Si sta qui in attesa di, già ci sono stati degli approcci per vedere come potesse sistemare alcune cose che già sono abbastanza carenti nei nostri confronti.